bene ragazzi mi sa che oggi ci sono tre clip di video di skyforge perchè quando ho avuto dei problemi che mi chiamavano a telefono quindi per parlare si è dovuto chiudere il video porca puttana bene chi cazzo è quello no devo agire queste no per favore non le sopporto vediamo le sopporte questa le rompe le palle ma che palle che fastidio è un po' 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 po' è un 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 po' dai pure questo dai pure questo dai ma i cazzi che cazzo è quella abilità di merda che hai figlio di puttana non ti faccio vedere io sword ready for action your movement speed is reduced ah è un bug ma il bottone posso combattere che cazzo è un po' 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 v electric che cazzo è un po' è poco line da ricaricare ma è quella su chiacazzi ma dai che è passivo perché sta dai attimo ma quello come cazzo fa ma quella si genera da solo ma puoi morire che ne vai a fanculo ma 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 un po anzi votano perché devo sclerare i costi per via di nuovo che faccio in sicuro che come una sessuale non ho mai scelato quasi su un gioco e spaccola playstation e che cazzo fai così sfragasso il cranio pezzo di merda se mortiscio sul tuo cadavere non vado a perdere un quarto due dai le abilità mi serve se ne vai dove cazzo non lo mette? quelli saranno più interibili da sposta no pro show devo usare ciccio fastidio pezzo di merda ecco risca e da Matteo giù la stabilità attiva la non si attiva ma io ma perchè si è bloccato? si è bloccato ma io stavo a sei ma io stavo a sei l'energia ma dai attiva attiva stabilità di merda ma guarda un poco ma guarda un poco ma sto a vaffanculo ma stavo a fanguolo ho mai scelato forse assai in vita mia ma guarda un po' dello scrivere via di una macchina di merda ma che cazzo che cazzo mi stanno alla testa a me è un po' di me no metri da quando sono ruvissabilità ok è una e tre dai oh ottimo si via di questo wow c'è solo il risultato di tutti i testi mamma mia cappa la pronta e vai no a qualsiasi ma non mette di canola sono andati per parte si no che fate pure il fatto ragazzi altrimenti tutto qua e lo sento ricompeteva solo a te c'è un altro bel gioco e perché forse e' un attimo c3 no questa è che rompe i coglioni oh che cazzo è successo no 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 no